Noi come Eco del Chisone da anni abbiamo un po' anticipato forse altri giornali locali, ci siamo adeguati con un sito internet che è stato ultimamente modificato, aggiornato, noi abbiamo l'abbonamento digitale e questo abbonamento digitale nei primi due o tre mesi ha dato alcuni risultati, io direi soddisfacenti, sono circa 200-250 abbonati. Noi vogliamo continuare su questa strada fermo restando comunque una cosa che il nostro primo interesse è quello di avere un giornale cartaccio, il resto in questo momento è un corollario, noi pensiamo al futuro ma siamo legati molto al presente.